Ehi, benvenuti un'altra volta su Glicerud e questo è The Binding of Isaac Rebirth Ho cambiato intonazione stavolta Allora, ci andiamo a fare una random atta che io vorrei fosse Isaac Non sarà Isaac, sarà Judas, oddio mio Aiuto Vabbè, abbiamo un parassita al primo livello Che aspetto a prendere? Che aspetto a prendere perché non si sa mai È una speciale Oh, mamma mia, ho rischiato già di morire così, al volo Che aspetto a prendere? Sì, vediamo cosa succede Non si sa mai Potrebbe uscire un'altra speciale dopo Giochiamo con la come i professionisti, dai Sono curioso, sono curioso di vedere Se giocandola come quelli che ci sanno giocare veramente Magari cambia qualcosa E vengo premiato Allora, questa meno male che è grossa Meno male che è grossa Curse of the Unknown, giusto? Però intanto lo so che ho un cuore solo Quindi non è che C'è da fare tanto il figo qua Quindi devo stare molto attento a questo piano E poi ne parliamo Mamma mia, Dingle Non è propriamente quello che volevo Stai qua dietro Rimbalzami Mi inquieta sempre molto all'inizio Il primo boss Quando ho a che fare con Con Oh Oh Quando ho a che fare con Sto qua Non mi ricordo come si chiama Ho avuto un momento di Oh Con Judas Mi inquieta sempre tanto Perché Un colpo un po' forte Ecco Tipo Al prossimo colpo ce l'ho in quel posto Vorrei evitare Che stupido E poi vabbè Poi si fanno ste cagate Poi di solito Poi si paga invece Meno male Va bene E poi se si dimentica Di usare il Se ci si dimentica di usare Il 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 Book of Belial Magari Si rischia anche di più Va bene Perfetto Abbiamo risolto Comunque Felicemente La faccenda E Andiamo Non ho la bomba Peccato E' un peccato Però ora Con due cuori Ora con due cuori Possiamo andare qua dentro E andare a vedere Cosa c'è qua dentro Che cazzo Vabbè Niente Andiamo a vedere però Aspettate C'è la chiave Andiamo a vedere qua Ok C'è un cuore spirituale Però c'è anche una bomba Sì Potrei andare a fare Il delfino goloso Andiamo a fare Il delfino goloso Dai Andiamo a fare I delfini golosi Andiamo a fare I delfini golosi Così Evitiamo il Mezzo Cuore Si il cuore spirituale Potenziale Cuore spirituale E facciamo i delfini golosi Vabbè Ok Fa lo stesso E più o meno È successo Quello che doveva succedere Prima Che ho sparato E ho sparato Ai due Si Peccato 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 Vabbè Fa lo stesso Ci ho provato Io ci ho provato Non importa Non è importante Non è importante Ho provato a fare Il delfino goloso E non mi è riuscito Andiamo giù Direi a questo punto E da questo punto Se lo usiamo al boss Ma se lo usiamo sul piano In generale Il buco Dovremmo Dovremmo avere Comunque Un In premio Un patto col diavolo Un patto col diavolo Che al momento Non è neanche poi Tutta sta figata Visto che ho considerato La mia situazione attuale Di cuore spirituale Fa ancora Uno sforzettino Esce ancora Un pelettino Ancora un pelo Ok Bravo A posto Bravo Te No Mi si è avvicinato Un po' troppo pericolosamente Ora vedi di nuovo Fai un altro saltino Ancora uno Ancora uno Opla No 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 Non tornare indietro Bravo No Aspetta Ti faccio la strada Anche qua sotto Ok Bravo Te A posto Ora scoppiamo Anche tutte le cacchette Che sono di troppo Cuore rosso Va bene Perfetto Quello che più o meno volevo Non che ne avessimo Poi così disperato bisogno Però Non che ci faccia schifo Nemmeno Allora Andiamo su Perché questo era un piccolo cieco Allora Con Giuda Sì Devo fare tutto Vero Dimenticavo Il seed Adesso arrivo Un attimo Mi libero di questo Il seed CDBL 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 EXZW Ogni volta che faccio così Mi sembra di dare i numeri Dell'otto Non so perché Se mi avvicino Tu spari Sicuro Quindi adesso Un po' qua Il book of bilan L'abbiamo ripreso Famiglio Non è che ci fa Proprio schifissimo Però Non era proprio Quello che volevamo Diciamo Vediamo un po' No Missing poster Abbiamo già preso Dell'host Quindi non ci serve Ok Anche perché Non credo che L'abbiano ancora risolto Il missing poster Anche se Non è più da risolvere Ormai Credo che Non l'abbiano ancora Completamente risolto Oppure Abbiano abbandonato Perché intanto È inutile Risolvere I 4 missing poster Che sarebbero Praticamente Una sorta di caccia Era una caccia al tesoro Che era stata creata Per Per Scoprire il personaggio Di The Lost E poi il personaggio Di The Lost È stato Scoperto Tramite hard coding Violento Da parte di qualche hackerone Di quelli Super smart Appassionati Di The Binding of Isaac E Tra l'altro Edmund McMillan Edmund McMillan L'ha presa Anche piuttosto maluccio Oltretutto E dicendo Cos'è? Au Dicendo è come se Vi mangiaste Una bistecca In un sol boccone Eh lo sa Ha fatto lo stesso Questo paragone Ha fatto Siete dei bastardi No Non l'ha neanche detto Siete dei bastardi Però Sicuramente faranno Farà qualcosa Nell'espansione O ancora più nascosto Oppure proprio per Prendere per il culo Quelli che Gli hanno Fregato L'ideone Allora Andiamo giù Ci troviamo Monstro Che era dato Proprio a A Gli devi dare Dei soldi Au Devi dare Dei soldi Praticamente Era proprio scommesso Era dato neanche a uno Era dato proprio A 0,5 Se scommettevi un euro Gli ne dovevi dare Ancora 20 centesimi Più o meno Allora 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 Abbiamo finito quasi È nero Ah no Sono io che ce l'ho mandato È nero Ok Ancora due colpi E via Belial Mi dovrebbe garantire Il patto col diavolo Che posso anche prendere Perché ho Halo Molto bene Molto bene Questo Ho startup Bene così Va bene Ok Un oggettino di gappi No Aspettate un attimo Prima ci liberiamo Di questa roba Bombe Bombe E niente Ok D'accordo Cosa Abbiamo ancora da vedere qualcosa Sì Volendo sì Ehm Andiamo nel negozio Vediamo un po' Cosa c'è nel negozio Vai Un altro cuoricino spirituale Nel negozio Sarebbe carino Non andiamo nel Sì Ok Ok Cuoricino spirituale E non andiamo nel Vorremmo metterli per il karma Dai Li mettiamo per il karma A posto Ehm Non Vado nella stanza Della Della No Devo andare a tornare indietro Se non ci vado Nella stanza del sacrificio Perché Non voglio spercarmi Cuoricini azzurri Sinceramente In questo momento E hai visto che non ho già Un oggetto di gappi La road to gappi Non la faccio neanche partire Vediamo un po' A meno che Nel prossimo patto Con il diavolo Non ci sia qualcosa Di illuminante Non ci provo nemmeno Stavolta Vediamo cosa succede Sicuramente qualcosa Che mi aumenti Il danno Direi Potrebbe anche essere utile Questi sono quelli Verticali Ok Che mi aumenti sensibilmente Il danno Ma proprio Che è proprio di brutto Sarebbe Oh Basta Meno male che mi sono anche giocato Il book of beelial Per sta roba Maledizione porca Cosa c'è qua dentro Le Pink and shear Che User No Che non userò comunque Perché Ora poi vi spiego Prima intanto Prendiamo il book of beelial Lo carichiamo Poi vediamo se c'è il caso Di usarle Per i boss è fantastico Le pink and shear Sono un ottimo oggetto Per i boss Fantastico oggetto Per i boss Altro che ottimo E' uno dei migliori oggetti Per battere velocemente Un boss Ma 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 E voglio il patto Con il diavolo A tutti i costi E senza Book of beelial Il patto con il diavolo Me lo potrei Anche succare Non è detto Cioè Ci sono buone possibilità Anche perché Credo di avere ancora Un cuore spirituale Anche se sono di nuovo Con un curse of the unknown Anche in questo piano Maledizione a loro Ma non lo so Quindi ho caricato questo Opla Andiamo a prendere Pink and shears E lo usiamo almeno una volta Giusto per Così E negozio Abbiamo trovato già tutto Dobbiamo trovare il boss La stanza del boss Abbiamo trovato il negozio La stanza degli oggetti Ah Questo potrebbe essere Un buon momento Per fare Pink and shears Se poi non si fosse incastrato Mercoledì Si è incastrato in una Chiara Si è incastrato in un Buco Sei un bastardo Maledetto Si è incastrato Si è incastrato in una roccia Oh Vabbè Torniamo indietro Riprendiamoci Ciò che ci spetta E vabbè Fa lo stesso Sono cose che capitano Si è inglicciato in una roccia Al bastardo Il boss soprattutto Sarà Per di qua Non lo so Spero di si Ma come la vaga impressione Proseguono ancora Per ore e ore e ore E poi a un certo punto Si scopre che No non ancora È la stanza più grossa dell'universo Ma è un AXL No non è un AXL Vabbè Andiamo a finire Sto lato Cioè Eccolo qua Il boss Ok perfetto Allora la stanza del boss è qui Non è neanche utile Che vada A finire Il piano Quella Pillola Non la possiamo prendere Cosa c'è di bello Pip Ok va bene Pip Che è giallo Pip Scemo io Pip giallo Pip giallo Che fa Salta e basta Non so cosa faccia Non so che differenza ci sia Tra il pip giallo E il pip normale Dovrei controllare Oh Oh mi sono avvicinato troppo Alla pipì Ho rischiato tantissimo Oh Buongiorno Arrivederci Salta ancora Non così Volevo che ti ritogliesi da lì Vabbè Già che ci sei Allora stai qua Cosa ti devo dire Salta ora Oh mi ha preso E vabbè Chissà quanto cazzo di vita ho adesso Vabbè Il cavato col diavolo è garantito Quindi non è un problema Però Non è che sia soddisfatto Di come ho Risolto la faccenda Maledizione a me Però Sono stato Non sono stato punito E cioè buono Pentagramma È Ottimissimo Dammi qualcosa di figo Vabbè Sì dai Tutto sommato Non è che mi ci possa Proprio lamentare Lo facciamo Non ha questo piano Non ha questo piano È troppo pericoloso Voglio Arrivare Anche perché Scusate Run Judas Devo fare tutto Devo fare tutto Con Judas Quindi Devo andare avanti Non devo andare per la figata Devo andare per Per Lo sblocco Devo andare per lo sblocco Abbiamo detto che non ci dobbiamo andare indietro Quindi è inutile Ok andiamo Andiamo via Tre monete però Andiamo a vedere nel negozio No Andiamo a vedere nel negozio Tre monete Sono troppo poche E Ma è sempre aperto È sempre aperto Andiamo prima a vedere se Riesco a caricare il book of Blyle E poi ne parliamo Ok Vediamo se riesco a caricare il book of Blyle E poi vediamo se è il caso di uccidere Il langioletto Oppure no Allora Se una di queste due stanze È vuota Non posso caricarlo Una è piena E qui c'è anche una cosa figa Aspettate un attimo Che ho paura Ok Nono 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 Poi qua invece Anche questa è piena È un rischio È un enorme rischio Ma ci piace il rischio I cuori Di cuori ce n'è E adesso ho anche Possibilmente anche un cuore spirituale Da buttare E lo buttiamo Vero Cosa c'è? Andiamo a buttare un cuore spirituale Non c'è Non ce n'è Eh vabbè Eh vabbè Andiamo Andiamo a vedere cosa c'è dentro queste casse Dai Vorrei evitarlo Ma È lì È lì Lì a portata Così presto C'è la possibilità che Sono tentatissimo Estremamente tentato E lo faremo Dai Lo faremo Lo faremo Andremo a dare una prima baccata Anche se può essere estremamente pericolosa Per la nostra run All'angioletto Ci proviamo Guarda ci sono quelli Così Ok Aha Via tutti Via tutti Ok Tra l'altro col pentagramma Dovrei essere anche discretamente a posto Se In quanto ha danni Per battere l'angioletto Andiamo a vedere Se È veramente così E se morirò Ricomincerò una run Cosa devo fare La ricomincerò Mi vedrete fare due run In una puntata Anche perché sono 14 minuti Cazzarola Eh vabbè Proviamoci Prego A noi due Vieni qua Angelo di sta ceppa Facciamo Danno Danno accettabile In più si innamora Quindi Quindi non dovrebbe essere così Pericoloso Cosa fai? Quando sei fermo Spari dritto Eh sono un cretino Se Ti ho detto Quando stai fermo Spari dritto E io ci vado proprio dritto Sono un po' Un scemo Questo invece Spara Le gocce Così sei dritto Di nuovo Tutto a posto Dai ho preso Soltanto mezzo danno No Non è un problema Non è un problema Keep this one Abbiamo Qualcosa da fare Andiamo a vedere ancora Se qua C'è un patto Col diavolo Abbiamo 5 bombe Le possiamo sprecare Per un patto Col diavolo Qui Si Un patto Col Stanza segreta Volevo dire Scusatemi Volevo dire Stanza segreta E qua mi dai Una chiave E una Una monetina Vabbè La seconda Stanza segreta Può essere in 522 posti Quindi la evitiamo Andiamo Giù E via Ok Terzo piano Ci siamo stati Un quarto D'ora 20 minuti Però E' stato Tutto sommato Fruttuoso Fruttuoso Vero Fruttuoso E' italiano Si E' italiano Ok Col pentagrama Adesso facciamo Un discreto Danno Ho avuto Un attimo Un momento Di mancamento Dovuto al fatto Che mi ero Incastrato In un muro Vieni qua Tranquillo Cassa Con una bomba E tre monettine Siamo vicini Ai 15 Alle 15 monete Che sarebbero Ottime Per prendere L'oggetto Nel negozio Qualunque Esso sia Abbiamo Abbandono Non abbiamo Il Cos'è che non abbiamo Non abbiamo Preso Il Nancebit Perché non abbiamo Le monete Ovviamente Per farlo Non per altro Ma Può essere Che Si ripresenti Potrebbe succedere Oh No Non abbiamo Non abbiamo Non abbiamo Non abbiamo Corri spirituari Per proteggerci Però non c'è niente Da proteggere Perché Ah così Dal nulla Tu appari Quando non serve Quando meno serve Va bene Perfetto L'importante È colpa Della zampa E la zampa Non è ogni volta Che si subisce danni Ma ogni volta Che succede qualcuno C'è una possibilità Che appaia Anche il corvo Il Dead bird Di Eve Grazie a quel trinket Vabbè Me ne sto Ah Vabbè Intanto Dicevamo Che non c'è problema Posso subire danno Quanto voglio Comunque Nei limiti Della norma Delle possibilità Umane Perché Intanto Usare il buco Belial Comporta Il patto Automatico C'era una stanza Sembrava una roccia tinta Quella lì Andiamo Eh sinistra 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 Oh questi sono Quelli che sparano Tre Ok Ce l'ho fatta Vai lì Bravo Vorrà non sparare di più E anche qua Non sparare più Va bene Sulla strada È questa qua Perché non ce n'è Altre Obiettivamente E quella di là È un bivio Che porta solo Alla stanza Del sacrificio E poi Nella stanza Del sacrificio Ci andiamo Dopo Tra l'altro Ma Con calma Ci andiamo Prima di prendere Eventuali I cuori spirituali Se appaiono Ricordiamocelo Magari Stavolta Ok Monettina Siamo a 17 Quindi se troviamo Il negozio Siamo a posto Questo non è Una posizione Che Mi è confortevole Quindi via Dalle palle Ok Grazie Ok Sono sempre Ok Ora posso gestire La cosa Anche se quel lancio Lì Di 10 km Mi ha un po' Inquietato Ok Su di qua C'è la stanza Del negozio Nel si dell'oggetto Scusate C'è la stanza Dell'oggetto Ah cosa mi dai Di bello Niente che mi servi Che mi serva Momspad Spaventa Spaventa I nemici Temporaneamente E non è Niente che sia Utile Alla nostra Causa Momentaneamente Sarebbe stato Molto utile Fosse capitato Nel Nella Chest Per esempio È stata Ciao Maledetta Primavera Che importa Se intanto Per innamorarsi Basta un'ora Che fretta C'era Andiamo Occidere L'ultimo C'era Non è uscito Non ho cagato Cuori Neanche per Ecco Ma si Dai Tanto ho 9 bombe Potrebbe esserci Una stanza segreta Lì in fondo Infatti Eh no Aspettate Eh Se allora Ci vogliamo male Allora Mi potrei togliere La maledizione Di dosso Scrollarmi La sfiga Di dosso E che Penso lo farò Andiamo al boss Poi prendiamo Se abbiamo i soldi Anche Il cuoricino Spirituale Che c'è nel negozio Wow Mamma saura Allora Per tutti i fossili Ci siamo incastrati No Cosa No No Non l'ho preso io Quel cuore nero Da dove è uscito Quel cuore nero L'ho raccattato Da qualche parte Ma che sfiga Vabbè Fa lo stesso E Vediamo prima Cosa c'è qua dentro Sì Olimental Olimental Molto bene Olimental Salva il primo Danno Di ogni stanza E mi serve Molto E se Rimane qua Ok Rimani qua Vero Tu ci rimani qua Non mi scappi Non mi scappi Penso Spero Perché Adesso Io vado a ricaricarmi Il Merda Non posso ricaricarmi Il book of Belial Ah Dannazza C'è un Una batteria da qualche parte Una stanza segreta Può essere Qui E qui più o meno No? L'angolo Quale Quanto è? Ecco Più dentro È più dentro È tipo qua E beh Proviamo qua Quindi a sto punto Non c'è Può essere qui Non c'è neanche qua Allora Ragioniamo Andiamo a vedere Prima nel negozio Cosa C'era la batteria Perché C'era una batteria Vero? Non mi ricordo Non c'era nessuna batteria Non c'era Non c'era nessuna batteria Potrei dare una baccata Alla donation room Diamo la baccata Alla donation room Diamo la baccata Alla donation room È inutile Che vada A Fare altri numeri Da circo Sul genere Prendo questi Mi prendo Il cuore spirituale E La stanza Del sacrificio Non ci andiamo Perché evidentemente Ho preso Un cuore nero Mentre Spaccavo le cacche Non lo so Cosa ho fatto Cosa ho combinato E quindi Non c'è stato niente da fare Qua Oh Via 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 A posto Ho una chiave Flat penny Che mi interessa Sicuramente di più Del dead bird Enged man Che potrebbe servirmi Ma questa pillola È Tears upgrade Molto bene Molto bene Quindi Non possiamo A questo punto Andare col Book of Belial Spianato Non so cosa fare Andiamo A dare Una baccata All 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 All'arcade Fammi pensare Diamo Due facciate Così Giusto per Ok Andiamo a vedere Se mi da una batteria In qualche modo Quello potrebbe essere Un 24 hour energy Sarebbe una botta Di culo Mega galattica No paralisi Niente No Non si può Non si riesce Va bene Perfetto Quindi andiamo Senza Book of Belial A Sfondare L'angioletto E poi ci Così almeno Siamo a posto E non dobbiamo Più sfondarne Altri Andiamo Andiamo Giù Vieni qua Amico Vieni amico Vieni Vieni amico Ok Questo mi sembra Più incazzoso Dell'altro Fondamentalmente Si lo è Nettamente più incazzoso Dell'altro Via 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 Tu Ah Tu Ah Tu sei più cazzuto Dell'altro Se ti fermi Spari a più Buono a sapersi Oh E questo Una novità Sono quelli cazzuti Tra l'altro Fanno Fanno Danno bisogno Di mille mila colpi Prima di Ehm Ah Che stupido Io No Ehm Ho preso Alimental Devo ricordarmi Che ho Alimental Perché Perché avendo Alimental Posso entrare Tranquillamente Nella stanza Di sacrificio Senza grossi problemi Finalmente ho imparato Anche così Al volo Visto che di conseguenza Di solito Quando andavo a uccidere Gli angioletti Ero già Nettamente più potente Non ho mai avuto Il tempo Per imparare Seriamente I pattern Dei due angeli E ora lo so E ora li so I pattern Dei due angeli Ehm Oh Conosco i pattern Dei due angeli Perché li ho potuti Combattere con calma Fortunatamente La chiave ce l'abbiamo Nel dubbio Da mega satan Ci possiamo andare Poi Vedremo Abbiamo Alimental Quindi abbiamo La possibilità Di entrare Nel Nella stanza Del sacrificio Senza subire Alcun danno Andiamo Allora Se qua c'è una bomba Se qua c'è una bomba Scoppia quello Che contiene Una cosa che non mi serve Ok Va bene Perfetto Potrei Potrei metterci Una bomba Qua Non lo Ma non lo farò Ma non lo farò Ma non lo farò Perché non so A che punto Sono messe Le pillole Cioè Non so Se sono buone Se sono cattive Se sono medie Se fan cagare Se sono fantastiche Io darei però Una baccata Arrivederci Buona camicia A tutte e tre Me ne vado Via 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 La stanza segreta Numero uno Dove cacchio è? È sicuramente In una di quelle due stanze A cui ho già dato Una bombata Ma che così Detto così È orribile Sa molto di Cioè Me la sono bombata Vabbè Fa lo stesso Ma probabilmente Ho sbagliato L'angolazione Ho sbagliato La distanza Dove mettere la bomba Perché non ho Non ho la percezione Dello spazio Del tempo Io nella mia vita Quindi E molta gente Lo sa E vabbè Allora Via Vieni qua Opla Di qua No Uh Lalalala Tu eri estremamente Vicino Troppo vicino Usarei dire Anche Tu Mi fai sempre Un po' paura Perché poi Ti avvicini Ti avvicini Veramente tanto Ok Ti avvicini Veramente tanto E poi In certo punto Spari una goccia rossa E io Non me l'aspetto Mai Mai E poi mai La madonna E cos'è Tra l'altro in questa stanza Ci possiamo entrare tranquillamente Poi dopo Per recuperare Quell'altro cuoricino spirituale In caso mi servisse E potrebbe servirmi Se gioco in sta maniera Ho rischiato tantissimo Aspettiamo che esca tutto Nel frattempo Scoppio I due fuochi Che non si sa mai Ok Questi scheletri Mi danno fastidio Mi urtano Il movimento Ok Uno in meno Due in meno Aspettiamo che il creep Passi E abbiamo Un bot Tre quarti di strade Da fare Chissà quale cacchio È quella giusta Sono diecimila Oh Mi hai dato un bacino Non so chi è che mi ha dato un bacino Ho perso l'effetto di Elemental Ma non ho capito bene Chi sia stato Tipo una goccia Probabilmente una goccia Che non ho visto partire Non ho visto passare Direte Usa di più Sto cacchio Di Book of Belial Cioè una carica da tre E perché ho sempre paura Di poi non avere la possibilità Di usarla nel boss E mi spaventa Sta cosa Molto E mi urta anche Se dovesse succedere Mi girerebbero veramente Mette tanto tanto le palle Ce l'ho tre stanze Quindi lo posso usare In caso dovesse andare Nei casini Però Non mi fido O meglio Potrei usarla La prossima stanza Che sarà Ho deciso Sarà Oh ho visto L'ho vista L'ho vista Giuro l'ho vista L'ho vista Ma adesso non ci serve Che sarà questa Dicevo Au Ed ecco perché è questa Anche perché non sapevo Che bosche Che bosche Che nemici c'erano Ma Sapevo che questa Poteva essere una Di quelle stanze Urticanti E Sì Anche perché mi ha dato Una monetti Meno male che ho sparato Perché se no Veramente Sarebbe andata molto male Dove cacchio Sarà la stanza Del boss Dove sarà la stanza Degli oggetti Dove sarà il negozio Un casino Che è messa Veramente Il layout È messo Veramente A cazzo Con tutte le stanze Una attaccata All'altra È un Putanaio Allora Per dirla in francese Naturalmente Ovviamente Perché sapete che io sono amante dei francesismi Qua sotto C'è un Cosa faccio? Ci divertiamo così Dai Divertiamoci così Me ne pentirò Ma non amaramente Ma Me ne pentirò Proprio Ma che proprio Non è Non ne avete un'idea Non ne avete un'idea Di quanto me ne pentirò Ma vabbè Dai Divertiamoci così Cosa vi devo dire E se moriremo È colpa vostra Sappiatelo No vabbè No No Di solito Quando succede in chat Una roba del genere Mi di Metà della chat Io mi fermo E chiedo Volete che prenda Ipecac E metà dice No Per favore Ti prego no E metà dice Sì dai Divertiamoci Ma divertiamoci che Voi vi divertite Io non mi diverto Niente L'odio Ipecac Ipecac Allora Qui Possiamo fare La figata Hop Ne Ma manco per idea Hop No Lungo Che cazzo ho fatto Non c'è speranza Che riesca a fare Sta cosa Quindi La evito La salto In bloccono Però posso fare Questo Questo Già è buono Invece Questo è utile E' molto buono Anche Qui c'è un cuore nero Ma aspetto Ovviamente Aspetto Potrebbe essere Utile da tenermi Lì a bada Per un eventuale Tanto questo Qualunque cosa Tu mi dia Glattoni Non posso Recuperartelo Ah no Angenman Quindi potresti Darmi anche Un maggiore di uno Naturalmente no Va bene Qua c'è la stanza Segreta Che contiene Paralisi I can see forever Che è buono Sapere di esserci Nel Va bene Anche Qua Nope Attio L'unica via utile A parte quella di sotto È questa Per vedere cosa c'è dentro Niente Non ci provo neanche Non perdo neanche il tempo Con il rischio di cominciare A bombardarmi Fortissimo In faccia con ipecac Non corro il rischio Inutilmente Il range è basso Ed è bene In questo caso Il range è estremamente basso E devo dire Che è un bene Estremamente un bene Perché Ipecac con range alto È molto peggio Che delle bombe Normale Perché non riusciremo mai A colpire Con un range altissimo Quindi devo continuare A non prendere dei range up Il boss è doppio Il danno è buono Il danno è fantastico Non buono Mi perdonerete Il danno è Esorbitante Però Ciò non toglie Che mi fa un po' paura Sempre E comunque La stanza del sacrificio Non so Ah perché C'avevo a Casey forever Ecco Ecco perché è uscito È la seconda stanza segreta Voglio dire Ok Ehm Lo prendo adesso Tanto Non credo che perderò 8 cuori Così Dumblè Eh no no Le monete per prendere La cosa figa Però Quasi Vediamo Andiamo un po' a cercare Monetine un po' sparse Per il pianeta Dai E ci sarà Qualcosa C'era una Roccia tinta Da qualche parte Chissà dove cazzo era Mmm Mmm Chissà dove era C'era una raccia tinta Da queste parti Ma boh Qua se continuo a bombardare Ci trovo magari un crawlspace Non sa mai Ok Niente Non c'è niente Neanche qua Andiamo Cosa dove era Qua dietro Eccola qua Mancata Presa Chiave Niente Non c'è niente di utile Nel dentro C'è potrebbe essere Una monetina Dai proviamo Eccola la monetina Che mi serviva E vai Ora però Inizia il divertimento Ok E ora ci sono quelli grossi No Ci sono i salterini Egnagna Eh Ok Due Manca meno due Meno uno Colpisci Ti prego Ok Tu cosa Però c'è ancora Oh Questi mi piacciono Così Questi così Mi piacciono Perché sono Non troppo veloci E muoiono Ok Abbiamo trovato la monetina Per andare a prendere L Prendere cosa Per prendere La batteria Oserei dire Nel volt La batteria Non il 9 volt Sì Andiamo a prendere La batteria La batteria Che carica Oltretutto Sì Che carica Può caricare Più di una volta Il buco Blyle Al momento Non ci serve Ma tra poco Potrebbe servirci Au 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 Già bat Mi sono già Fottuto così Il Oh Ecco Vedete i problemi Questi sono i problemi Di avere Fanculo Meno male che ho 10.000 cuori spirituali Misti Sparsi da tutte le parti Della stanza Fanculo Me ne frega un cazzo Perdo 10.000 cuori Fottiti Cosa c'è ancora Questo stronzo Qua c'è ancora Fottiti Allora Cuoricino Che fa sempre bene Torn Foto La teniamo Già Che non è una cosa Che ci possa servire Sinceramente E Opla E' inutile Che vada A uccidere Di nuovo L'angioletto Ma posso andare Prima A prendere Prima a scoppiare Questo E poi a scoppiare Questo Oh Ci ho trovato Un ghost baby Selvatico Molto bene Andiamo a prendere Pi 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 Tanto ho Alimental E Andiamo a prendere Quel cuore nero Lì così Trasformiamo almeno Un cuore azzurro Un cuore nero E non c'è altro E non c'è altro Non ho voglia Di andare a cercare In ogni stanza Se c'è qualcosa Da distruggere Quindi Lo farò Dal prossimo piano Ogni volta Volta per volta Andiamo Nel Dal piano della mamma Questo è il piano Della mamma Il prossimo Non questo Il prossimo Giù E Giù Ok Mi sta andando via La voce Come si può sentire Vabbè Spero di arrivare Alla fine Abbastanza sano E salvo Scusate un attimo Sono le 34 minuti Di run In allegria Io nel frattempo Devo controllare Un attimo Due cose Ok Perfetto Ho fatto E ho alimental Non ho alimental Sì ho alimental Ma perché non l'avevo Prima Non si vedeva Forse E basta Ok Andiamo a vedere Qua dentro Cosa c'è Ok Bastardo Vabbè Un'altra Mi è rimasta lì Ma poi sono un cretino Oh ipecac Vabbè Mi sono confuso Mi sono confuso Ok Ora Mi è scoraggiato il cervello Come avete potuto notare Vabbè 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 Scoppiamo qua Ci arrivi No Perché non posso colpirti Eh Perfetto Oh la madonna E quanta roba c'è Fantastico Quei 5 centesimi Li voglio Ok Cosa c'era qua In queste pillole Eh Lungo Eh No Ho sbagliato Eh Una pillola era I can see forever Ok Buono It's good E questa era Domster key Chi se ne frega Voglio I can see forever Me la tengo E Anzi la uso qua Chi se ne frega Usiamola qua Così posso ottenermi Lunged man Abbiamo una buona Scorta di Wow 2 E 3 Grid Ho premuto Ho premuto Giuro Ho premuto Ma devo aver premuto Troppo piano E quindi non è partito Infatti come avete visto È partito lo sparo Del Rainbow Baby Ma non è partito Lo sparo Dell'Ipecac Non ho idea Del perché Ma va bene Eh Ci teniamo due cariche Di Coso Così almeno Siamo più tranquilli E Ho sbagliato Mira Però stavolta ho preso E così almeno siamo più tranquilli E possiamo usarlo A tradimento Vorrei Ma non vorrei Uccidermi Ok Altre chiavi Caghiamo chiavi Obiettivamente Adesso Va bene Eh Sì Mamma Stai già arrivando Va bene Benvenuta Benvenuta Ah Bastarda Va bene Tanto era Era un vicolo cieco Quindi è inutile che ci rientriamo Obiettivamente Abbiamo Non abbiamo neanche subito danno Perché abbiamo alimento Tanto abbiamo alimento Qui Au Ah non mi son preso Va bene Ok Va bene L'importante è quello L'importante è l'amicizia Come dice il mio Rosticcere Ok Ops Guardavo Ho cliccato fuori dalla finestra Mi è uscita Mi è andato in menu In menu tutto Uno E due Ok Giù O sinistra Giù No Sinistra Un altro Meno male che è venuto adesso Un momento Eh vabbè Vedete Vedete il momento Scorreggio del cervello Poi Poi rischio ste cose Faccio ste Errori E rischio ste Scorreggio mentali E poi sono Del gatto Ok 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 Andiamo giù Stavolta andiamo giù Sai giù? Sai giù com'è? Giù Giù Ce l'ho già Il Questo baby Ma vabbè Farò lo stesso E cosa dobbiamo farci? Ci sono rimasto molto male Devo ammettere Sono stato Poco mobile Me lo sono meritato Però Eh vabbè Eh vabbè Vabbè Farò lo stesso Non mi ricordo Potrei aver subito Comunque danni Anche il piano prima Quindi Ah no Ne ho subiti 50 milioni di danni Il piano prima Sì 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 Non c'era neanche pericolo Di avere un Di prendere Un boy Ma credo che comunque Oh Questo è telepathy Sì è telepathy for dummies C'è la possibilità di avere Le lacrime a ricerca Ma con ipecac Non so neanche se è un bene Avere ipecac A ricerca Obiettivamente Ok Dovevi andare contro Ecco Suicidati Qui c'è una carta Che ci facciamo tornare indietro The sun Questa è una carta Ovviamente migliore Dai su Fanculo Mi sono sparato Nello spigolo della porta Mamma mia Che brutta cosa Farò stesso Uh Buongiorno Egnè Egnè Mancati Presi Presi Ok Questo è Più brutti Abbiamo Ci siamo fatti Crescere i peli Abbiamo 32 monete Quindi possiamo prendere Sia phd Che Lo stinsale Ed è meglio prendere Prima lo stinsale E poi piaci di Perché è scontato Cosa dici Stavo per fare il contrario Ho rischiato anche di Di insultarmi per un'ora Ehm E Facciamo una cosa Bastardo Quando voglio fare il buono Poi alla fine Mi ciuli così Perché Cosa ho fatto di male Per meritarmi tutto ciò Volevo donarti Dei soldi Vabbè Fatti tuoi Ok Facciamo Spazio Avevo Hanged Man Un tempo Chissà se ce l'ho ancora Aspettate Prima faccio così Perché sennò qua Ok Ok Uy la madonna Eh Ci sono tre C'era Questo era Hanged Man Tipo Sì Perfetto Ottimo Andiamo a prenderceli tutti Let's catch them all No ma lo prendiamo dopo Ce lo ricorderemo Soprattutto Ah ma devo arrivare Poi però se è la mamma Quindi niente Va bene Non è la mamma Quindi facciamo così No devo prendere Devo prendere la chiave Che mi ero dimenticato Poi Hanged Man Questo Questo cos'è Wheel of Fortune Ok Andiamo a prendere Facciamo così Wheel of Fortune Qui Oh È una spirituale E vabbè Fa lo stesso The Sun Ho visitato Tutto quello Che dovevo visitare Praticamente Lancia nè Di stanze Di sacrificio Sì ma l'ho già visto Ed è già Stata svuotata Sì Ok Ehm Non posso andare Non posso andare a prendere Niente di tutto ciò Però quella è la seconda Stanza segreta E quindi Ci entriamo E ci sono Balls of Steel Wow I can see forever Balls of Steel Tears upgrade I can see forever Mi urta Non poter portarmi Un Balls of Steel Tanto E un Sun C'ho anche il Sun Non posso portarmi Tutte e due I Balls of Steel Che scazzo atomico E nucleare Cosa prendo Prendo The Sun E' più utile E' più utile Troveremo Delle rocce Dei fuochi eterni E cose varie Un po' ovunque Quindi Mi fido Di più di The Sun In caso Veramente Andasse Veramente a schifio Allora Andiamo A fare fuori Tutto ciò Che Concerno Un ostacolo Per la Mia Missione Facciamoci un po' di spazio In poche parole Ok Andiamo Via Velocemente Prima che Appaia Una mano Selvaggia Mi ha preso Il Mi ha preso Un occhio Ho perso Mezzo cuore Che ho riguadagnato Subito E Possiamo Scegliere Di andare Dove cacchio ci pare Andiamo Nella Chest Perché è più divertente Poi Oh Buongiorno Ma si Ma perché no Cosa dici Allora Quindi ci perdiamo Il cuore Si è stato utile Prendere The Sun Probabilmente Perché adesso avremo 6 cuori E non dobbiamo fare Nient'altro Scoppiamo Non si sa mai Magari ci troviamo Ancora Space Così Ok Va bene Perfetto Tutti giù Nel womb O nell'utero Come dipende Decidete voi Non c'è problema Ok Womb 1 Va bene Ci sto Sbam 700 cuori Ci fosse Il Il Dark Bum Staremo Festeggiando Proprio Anche lui Starebbe festeggiando Tra l'altro Tantissimo Ok Ok Andiamo avanti Cerchiamo un po' di No No Esci fuori Dai su Posso ucciderti In un colpo La voce Sta andando Veramente a Baldracche Aiuto Ok Oh I lamp I lamp Ne vengo Da una run Che Della quale I lamp Mi hanno scartavetrato Estremamente Ai maroni Quindi Alla vista Dei lamp Mi è scesa Un pochino La voglia di vivere Allora 2 Proprio così A tradimento Aspettate perché Lo sto vedendo Poi forse Con questa Con tutto questo Birolucicchio Non lo vedete Ma c'erano dei creep Per terra Ku Sei innamorato Tanto vi stavi andando A uccidere Il coso di carne Peccato Sarebbe stato bello Però Vederti fare ciò Allora Sarà di qua No Non è di qua Uff Ah Grave errore Stupido errore Oltretutto Oltre che grave Vabbè Vieni qua Apriti Sedano Vabbè Poi i boy Li faremo Con calma Non c'è problema Se no Li ho già fatti Perché poi Magari li ho già fatti Li sto schivando E basta Magari se ora Incomincio anche a colpire Ecco Preso Mancato Mancato Preso Questo Questo era tra l'altro Un vicolo cieco Ridammi quello Poi adesso Posso anche buttarlo via E alla prossima Trinket Prendiamo qualunque Trinket sia Perché 22 monete Mi sembrano giuste Giuste Per Per la chest Ma proprio Il minimo Indispensabile Quindi direi che Possono andare Sono ironico Ovviamente Dov'è il Ah sei tu Ci rincontriamo Non ti posso colpire In nessun modo Se non Sparandoti fortissimo Ok Così Cercando di Evitare Tears upgrade Non mi serve Ma va bene C'è qualcos'altro No Ok Direi che questa È l'unica via Ah Meno male E via E via Arrivederci Non usi Il Book of Belial Avete ragione Ribadisco Ma mi dimentico E Ho paura Ripristiniamo I cuori neri Questo è Un alt upgrade E Avendo Un Dove cazzo È finito The sun L'ho lasciato là E avendo The sun È utile Più berti Chi se ne Andiamo a prendere Di nuovo Il the sun Che avevo mollato E Riandiamo No È inutile È inutile Andare a prendersi I cuori là in fondo Potrebbero servire Me ne sono accorto No Nope Non me ne sono accorto Dello spigolo Va bene Fa lo stesso Tanto era Tanto ho Alimental Cheat Tra parentesi Due Cuori spirituali Una stanza Segreta Numero Uno Numero uno Sì Numero uno Boom La stanza segreta Numero due Non l'abbiamo ancora Trovata Vero No Non l'abbiamo trovata Sarà probabilmente In fondo a questo tunnel Due colpi Non ci può essere Perché non me l'ha Sviluppo Non me l'ha detto Di qua Non è qua Uno E uno Due I Gurglings Scusate Gurglings I gurglings Li stronchiamo Alla grandeur Proprio Quindi qua Tra l'altro Non glieli possiamo far mangiare Le bombe di Peccac Peccato Sarebbe stato divertente Palombella Sapida E il mio Paglio è passato sopra Va bene Cosa mi dai? Niente A parte Una carica di tanta stima E ok Uno Ok Due E ok Tre Qua cosa c'è? Una bomba Andiamo a battere Chiunque Ci si pari davanti Probabilmente la stanza segreta Era da qualche altra parte Ma Per lo stesso Uno Due Au Cazzo Tre E quattro Questo Non ci voleva Vabbè non sarà un grosso problema Tutto ciò Però Mi gira un po' le palle Avevo spito un danno Così immediatamente Mi scoccia un po' Quanto ci vuole a colpirti? Scusate Mi stavo dimenticando anche stavolta Di usare il book of Belial Nope Ah no no Guarda Ti dico proprio no Guarda Ti dico no Vieni qua Vieni qua Bastardo Vieni qua Ok Allora Questo lo prendo qua E questo lo prendo adesso Un blue cap O un blue cap Che è un altro Alt upgrade Adesso ormai Siamo in regime Di cuore rossi pieno Proprio Senza Senza storia Oh Ho fatto una cagata Vabbè dai Non dovrebbe essere un dramma È di nuovo col primo È di nuovo il primo Quindi non è un problema Basta non prendere la chiave Non è un problema Perché Non voglio prendere Isaac Come si chiama Il Breath of Life Perché non è utile Obiettivamente Quindi non Allora l'ho presa Vabbè fa lo stesso Tanto non è importante E non ho voglia di andare indietro A cercare la stanza segreta numero 2 Obiettivamente Quindi ce ne andiamo Subito Immediatly Via Ora dovrebbe essere Velocemente Dovremmo arrivare velocemente A quello Che si configura Una sfida con Isaac Almeno E Una fugona generale Perché è una Ma È un Layout Della mappa Di merda Dove siete Tutti Porco cazzo Che schifo è sta mappa Sto piano Questo è tra l'altro Un piano nuovo Hanno aggiornato Questo è un piano nuovo Piano nuovo Dell'ultimo aggiornamento Che ho potuto fare Nel Nel coso Naturalmente Che ho potuto fare con Che ho potuto fare con Prima di che mi saltasse Che mi saltasse internet Che fossi Fossi Mi Mi L'italiano Prima che mi trasferissi Per il momento Non posso ancora aggiornare In caso di eventuale Altro aggiornamento Non posso aggiornare C'è una roccia tinta A qualche parte No va bene No dicevo Non una roccia tinta C'è un Satanic Bible Non è utile Però in questo momento Sì Probabilmente Come è utile Questo omino Meraviglioso omino Che se riesco A provocare A sufficienza Mi da questa roba qua Che è sicuramente Molto più utile Adesso di Satanic Bible Usiamolo Book of seven things Lo usiamo Mi da una moneta E Lo riusiamo questo Aspettate Lo possiamo riusare Quindi andiamo qua Anno ma è inutile Che lo riusi Cosa lo uso a fare Ehm Niente scusate Ho avuto un momento Di belinismo Se sono già a vita piena Cosa lo uso a fare E Paperclip è ovviamente Più utile Del flat penny Adesso Perché Abbiamo Xmila Monete Xmila chiavi Ora quindi Non è utile Avere altre chiavi E in più Questo permette Di non usarle Le chiavi Per le casse E anche per le porte Non mi ricordo più Devo ricontrollare Lo proverò Ma sicuramente Per le casse Non c'è bisogno Di usare le chiavi Perché il paperclip Mi scassina Scassina O scassina Come si dirà Non so Si scassina Direi Scassina Scassina Oggi è la giornata Delle domande In lingua Allora Facciamo così Ok Worm No Direi di no Non ci è utile Per nessun motivo Mai Aiuto Ah si sta lasciando la scia Piccolo particolare Ok Un attimo Un attimo Ci siamo Questo cos'era Chi se lo ricorda più Bombsarchi No Sto bene così Di chiavi E sto bene così Di bombe Tu non fare in tempo E avvicinarsi E avvicinarsi troppo L'altra Mi sono un po' Cagato Nelle mutande Allora È un problema È un problema Ecco Si è un po' Un enorme problema Perché 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 Merda Ecco Perché Perché abbiamo Ci siamo già giocati Il Il Ok L'olimental Così D'amblè Al volo Spariamo A getto continuo Proprio L'ignoranza Pura Non è Non è Difficile Non è difficile Per niente Questa cosa Però se mi devo avvicinare Magari Ok Perfetto È il momento Dei laser Ce la fai A fare i laser Fa in tempo No Non ce la fa In tempo Allora Abbiamo detto Che abbiamo preso Il Che cazzo Abbiamo preso Abbiamo preso Abbiamo preso La Polaroid Voglio prima andare A vedere Se c'è la donation Ah no Non c'è la donation room Non può esserci O meglio C'è Ci può essere Ma è bloccata Non lo ricordo L'ho bloccata io Quindi è inutile Che vada Nel negozio Nella Nell'arcade Destra Per una volta Tripletta 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 così Ai 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 Vabbè Fa lo stesso Guarda la satanic bible Mi sarebbe servito Vabbè Fa lo stesso No 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 Già Così Non è anche me Hai lasciato il tempo Di salutarti Vieni vieni Ok No Ma ha preso Ma ha preso Comunque Allora Ah anche Pagherò Questa cosa Caramente Lo so Lo so Basta Muori In pace Per piacere Muori Come tutte le altre Come tutti gli altri Mostri Che cazzo Con Ipeca Che in effetti Questo era un po' Un problema Devo dire Ammetto Una carica Giusto perché Non usiamo abbastanza Il buco Belial Quindi Usiamola adesso Tanto la carica Tanto la carica Opla E doppietta Anche qua Ho bisogno Di Questo Temo Li ho lasciato Comunque Se non sbaglio Quindi non è che Non è vero Non avevo bisogno Però Nel dubbio Li posso colpire Da più lontano Li faccio più male Con lo splash Oh Scavalcato Pallonettone E non mi ha detto Niente Se è caricato Di uno Andiamo giù Sarà qua Non Non credo Non sono così sicuro E qua sarebbe servito Il buco Belial Maledetto me E vabbè Vedete Poi cosa succede Eh io ve lo dico Mi spingete Sentivo Proprio Usa il buco Belial Usa il buco E poi Succede questo Eeeh No vabbè scherzo No scherzo Vi voglio bene Sempre Lo sapete Allora via così Velocemente No Ho sbagliato un'occasione Oh però L'ho presa Avevo fallito un'occasione Per fare un pocherone Che Proprio da applausi Proprio Scena applausi Scena aperta Però ce l'ho fatta Poi subito dopo Anche se al secondo tentativo Vale meno Questi Scoppiano Velocemente Anzi Quello può anche rimanere lì Non me ne frega un cazzo Scusate Chiedo scusa Per il colpo di Toss Improvviso Non ho fatto in tempo A togliere le mani Dal Joypad Bastardo Dal Joypad E mettere E mettere in muto Cosa Di qua Ormai Stiamo andando da Stappardo Sapete che c'è Che uso Buco V-Lyre Non serve a nulla Tra l'altro Perché Continuo comunque A metterci Porco Ipecacca Non si poteva Usare Per fare Per fare una run Da boys Quindi Non Non L'idea che ho avuto Però posso fare Mama's boy Sta cippa Con Ipecac Ma proprio Sta cippa Andiamo di qua Vediamo Vediamo se c'è qualcosa Di figo Qua dentro Non si sa mai Lo so Quelli Quelli della cattedrale Li riconosco Le rocce tinte Della cattedrale Però Sai Va mai Questo Me lo sono preso in faccia Lo sapevo Benissimo Proprio Ho deciso Ho detto Vabbè Tanto Alimental Sempre cheat Se lo zetto Chiedesse Le royalties Per tutte le volte Che sto dicendo Tanto Alimental Da quando gli ho visto Il video Quando ho visto il video Con Norotus Sarebbe ricco Sicuramente Prenderebbe più soldi Che con la partnership Questo È un crawlspace Che non mi dispiace Oh Forse riesco addirittura A battere con Un Ipecac Il doppio Gerdie Junior Senza neanche Sprecarmi L'olimental Ragazzi Che botta di culo Non è classe È solo Esclusivamente culo Cosa c'è di bello Qua sotto Ma sì Posso evitarvi Con un saltino Con un No Vabbè Vi abbraccio Con l'olimental Tanto l'olimental C'è una roccia No Volevo dire C'è Un No Ok Credevo Di aver Di aver usato Di aver trovato Dei cuori spirituali Andiamo Da Isaac Isaac Pieni Isaac Isaac Up 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 Pum Pum Ah 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 Stiamo facendoli Pochissimo Tra l'altro Wow Ah Mi sono Sono andato un attimo In panico Ho usato di nuovo Book of Belial Non somma Non somma Book of Belial Quindi Non Era inutile Farlo Ma è proprio perché sono andato in merda Non peraltro Non è stata Non è stata Una scelta Ah Ben Ben studiata Che sono andato in pappa Col cervello Completamento Sto subendo Non ho ancora subito Cuori rossi Adesso li subisco Ora No Perché non ho ancora imparato Ad andare nel lato giusto Da dove parte Ok Quindi mi devo mettere qua Sto imparando Eh Ma con calma Non riesco a capire Da dove provengono Quindi qua Non ci riesco mai Non capisco Faccio veramente Grosse difficoltà Ancora Nanananananananananananananananana Andiamo a prenderci la carica, così, giusto per, non per motivi strani, ma perché così almeno potrei avere subito bisogno, non si sa mai. Death Sun, lo potremmo usare subito? No, non serve, perché devo usarlo subito? Ah, oh, ok, più che altro perché volevo vedere subito dove era il boss, perché mi sa che non ce la possiamo fare fondamentalmente, soprattutto se poi dobbiamo andare su a prenderci cura di qualcosa di buono, due famigli, che è ok, questo è The Virus, poi Don't Touch che non ci serve fondamentalmente. Qua potremmo ricreare il Suicide King, è meglio di no, obiettivamente, non credo sia una buona idea, devo essere proprio sincero. Mi servirebbe qualcosa che mi permetta di volare e sarei a posto, mi faresti un grosso favore se mi dessi qualcosa che mi permette di volare fisso. Quindi, vediamo se riesco a trovare in questa avventura, voglio uccidere prima uno, ne voglio uccidere prima uno velocemente, e poi dell'altro ne parliamo, con calma, ok. L'importante è che non ci trovo degli adversary qua dentro, perché sennò sono dolori. Allora, andiamo, prima a battere dicevo, andiamo, oh, quattro, vabbè, a parte fatta che uno l'ho già ucciso con una pallettata e l'altro è morto, buh, buh, per una, per una, per una mosca, probabilmente. Emo, smuoiono per le mosche, come le mosche per le mosche, che figo, è vero, la mosca deve fare un male della madonna adesso. Fico, fico, mi piace, giù. Questi mi preoccupano, soprattutto se sono due. Eccolo lì, sapevo, perché è molto, estremamente random quando fa così, quindi non sono mai tranquillo. Eccolo lì, danno l'ho preso, me ne prendo un altro se non mi sbrigo, ok. Cuore rosso, cuore rosso, ridammi il cuore rosso. Vabbè, tanto potevo tenermelo, tanto ho coso, tanto ho il wafer, quindi non è un problema. Eh, lardo, ma sì, ma andiamo, cerchiamo di riempirci tutto di... Le stars non ci serve. Riempirci integralmente di cuori rossi, vediamo un po' se ci riesco. Tu sei proprio il peggiore che mi potessi capitare dei tra i boss. Sei già morto, però. Ok, colpa della mosca, mi sa. Ho come la vaga idea che sono le mosche. Stanno facendo comportamenti da MVP le mosche. Questo è morto, quello è un mega, sì, lo sapevo. Era un super grid, era evidente. Sono tutti i super, sono tutti i super boss, tutti insieme in una stanza sola. Ciò non mi tranquillizza, anche se... Eh, voglio uccidere prima due. Perché non si sa mai che... Tanto uccidiamo che i suoi compagnucci della parrocchietta... Maledizione, o ci saranno morti prima gli altri. È morto prima... Mega glattoni, super glattoni, come cazzo si chiama. Non mi ricordo. Lascio fare a voi a sto punto. Cosa dite? Fai tu, Demon Baby. Fai pure tu. Non ti preoccupare. Fai come se fossi a casa tua. Perché è pericoloso. Che se sparavo qua era veramente pericoloso. Allora, tu invece... Mi libero di te così, velocemente. E andiamo subito. Sì, andiamo subito. Dovrebbe essere un po' più semplice, in teoria. In teoria, eh. Poi in pratica sicuramente non lo sarà. Ho rischiato di far una cagata. E comunque l'ho fatta. Au. Eccolo, il primo danno. Meno male che stavo ancora lampeggiando. Sto facendo... Prendendo danni stupidi. Però lui ha molto meno danno. Mi è durato molto meno. Molto meno. Madonna, qualcos'altro? Ce l'hai da tirarmi addosso? Con calma, eh. Ok. È andato. Subendo solo mezzo danno. Ok. E andiamo a sventrare. Mega satana. Basterà? Facciamo una cosa. Andiamo a finire tutto il piano. Perché... Au. 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 Ok. Tutto a posto. Non è successo niente. Tears upgrade. Perché se mi danno un cuoricino in più. Io me lo prendo. Anche due. Anche due cuoricini in più. Io me li prendo. Oh. Eccoli gli adversary. Buongiorno. Benvenuti. Lo so. Lo so. Ma voglio prima ucciderne uno. Oh. Lo so che mi sono giocato la... Lo sono giocato tantissimo. Però. Ok. Perfetto. Lo sono giocato. Ma ero a rischio calcolato. Mi sono proprio messo a tankare volontariamente. Per ucciderne uno. Allora. Qui... Vabbè. Questi sono meno... Sicuramente meno pericolosi. Questi. Ed è molto meno pericoloso lui. In sé per sé. Tu sei così verde. Come sei verde. Stai benissimo. Oh. Questa è... Oh. Buongiorno. Non mi ero accorto che ero... Avevo cambiato orientamento. Ero passato sotto. Niente cassa. Non mi arriva una cassa neanche a pagarla. Vabbè. Ci sto. Cosa devo dire? Questa cos'era? The stars. No. Non mi interessa. Porco Giuda. Ce n'è tipo due. Questa stanza non l'ho mai vista. Due di Aske, due... Due Lord of Flies. Insieme. Nella stessa stanza. Non l'avevo mai vista. Soltanto che adesso il problema è che... Non riesco a levarmi dalle balle le mostre. Che... Ok. Prego. Doppietta? Decisi tutte e due. Grande. Grande me. Grande me. Ok. No. Non sono assolutamente interessato a te. A voi anche. Non è che sia particolarmente interessato. Voi, voi... Io vorrei che voi mi deste una cassa. Non me ne frega una mazza di quello che mi date voi. Soldi e cose varie. Non trovo una cassa dall'inizio. Da... Oddio mio. Meno male che... Anak. Dicevo. Meno male che ho Alimental. Disse giocando solo e prendendo un danno. Come un coglione. Oltretutto. Cuore spirituale lo teni. Ce lo teniamo. Aspettate. Non lo usiamo subito. Perché ovviamente bisogna giocarselo. Giocarsela come se fosse il primo piano del basement. Allora. Basta? Ce n'è più? Ok. Ok. Quindi. La stanza segreta può essere qui. Tanto. Sono venuto a prendermi la SWAT. Addirittura. Pensate voi. Come sono un ricercato dalla polizia. Tutte queste ore a GTA. Hanno fatto bene. Alla mia fedina penale. Qua potrebbe esserci. No. Non ci può essere. Però da quest'altra parte sì. Da questa parte qua. Non c'è. Potrebbe esserci invece la stanza segreta numero 2 qui. Nope. Potrebbe esserci la stanza segreta numero 2 qui. Io prendo tutte le occasioni possibili e immaginabili per riempirmi la barra della vita. E in modo che così abbia maggiori possibilità di battere Mega Satana. Perché tutto sommato. Non è proprio una build. Semplice. Per battere Mega Satana. Non è. Il top di gamma. Diciamo. Non trovo neanche la stanza segreta obiettivamente. Abbiamo trovata prima o poi la stanza segreta. No eh. Dove cazzo è andata la stanza segreta? La numero 1 voglio. Non la numero 2. Voglio anche la numero 2. Ma la numero 1. È persa. È andata persa la stanza segreta numero 1. Che cazzo di fine ha fatto? Potrebbe essere qua in cima e vicino. E potrebbe esserci la stanza segreta numero 2. Potrebbe essere qua. O qua sotto. No. Dove straminchia è? Si è persa completamente. Non sappiamo dove è finita. O magari sappiamo dov'è ma in realtà ho sparato e non c'è. Eh vabbè fa lo stesso dai chi se ne frega. Non importa. Andiamo? Pronti? Pronti tutti? Via. Allora. Devo stare all'occhio. Intanto usiamo il buco Belial. Che non si sa mai. E incominciamo a sparare all'impazzata. Proprio senza soluzione di continuità. Cercando di non muoversi in avanti. Perché se no. Cerchiamo di tenerci l'alimentolo il più possibile. So benissimo che dicendo così. Ve lo gioco tra 30 secondi. Ok. Tu spari il laser quando fai così. Ok. Ancora fattibile. Ora arriva il momento dei. Dei cavalieri dell'apocalisse. O mi sono passato. Eccolo lì. Mi sono giocato alimentol perché sono passato sopra la cosa verde. Maledizione a me. Sono uno stupido. Oltre che uno stupido. Tu hai una mano lì. Mi inquieta il fatto che tu abbia una mano lì. Oddio mio. Ok. Eh no. Credo che mi avessero colpito. Invece no. Ok. Va bene. Devo occuparmi di uno per volta. Ce la devo fare. Ce l'ho fatta. Ok. Venite prima voi con le vostre. Ok. Famiglie. Ok. Poi cosa c'è? La testa del cavallo. Presa. Andiamo di nuovo a uccidere e stuprare le mani. Una è quasi andata. Andata. Oh. Salve. Due. Andate? No. Non è ancora andata. È quasi andata. Non è ancora andata. È andata ora. Non posso spararti. Se non mi fai andare lì nell'angolino. Ok. Andiamo. Andiamo. Ah no. Ok. Sono i vizi capitali. Prima due. Poi qua. Ma poi c'è questo. Poi due insieme. Poi quattro insieme. Giusto? Sbaglio? Se posso colpirti la mano da qua. No. Non posso colpirti la mano da qua. Ci ho provato però. Abbiamo appena perso il cuore spirituale. Addirittura ho perso anche un mezzo cuore adesso. Quindi anche se non ci fosse stato il wafer. Però... Ah. Bastardo. Mi ha spawnato in faccia. Praticamente. Figlio di grandissima bagasciona. Vieni qua. Oh. Super slot. Vaffanculo. Pezzone. Che non sei altro. No. Eh. Non mi toccare. A questo punto sarei ancora con quattro... Ci sono con sei cuori. In questo momento. Non avessi... Eh... No. Laser. Non avessi the wafer. Sarei ancora comunque con quattro cuori. Quindi bene. Gli angeli non dovrebbero essere un grosso problema. Anche perché uno fa questo. L'altro. Se si ferma so che spara più. Ora ho imparato. Grazie a questa run. E ora tocca di nuovo a te. Ti devo dare delle altre baccate. Quindi... Vai altre baccate. Io te le do. Le altre baccate. Laser. No. Non laser. Mi rigenera una mano. Vai 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 a prendere manate. È fortissimo l'altra mano. No 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 no. Ok. Testate contro il muro. Hai perso la mano. Ritorni. Non male. Oserei dire. Non dovremmo avere più grossissimi problemi. In teoria. Dovremmo aver vinto. Dovremmo aver vinto abbastanza. Oh eh. Lo sapevo. Però. Primo o poi. Sarei dovuto schivare. Avrei dovuto schivare quella roba lì. E così. Però non ho range. Quindi mi devo avvicinare. Prenderò un altro danno. Fa bene. Fa lo stesso. Non è importante. E così avrei ancora due cuori. Ho un cuore. Avrei. E avrei vinto comunque. Sì. Avrei vinto comunque. Avrei vinto comunque. Perché. Ha finito. Sì. Avrei vinto anche senza wafer. Quindi. Benone. Così. Doppietta anche stavolta. Siamo alla tipo la quarta doppietta. In sette run. In sei run. Bella lì. Bella lì. Bella lì. Mi è piaciuta. Anche questa run. Comunque strana. Con i peccac. Va bene. Va bene. È stata divertente. Quindi. Se vi è piaciuto. Cliccate mi piace. Se vi è piaciuto il video. E se vi piacciono i miei video. Cliccate mi piace. Per sostenermi. E ce n'è tanto bisogno. E. Se non l'avete ancora fatto. Iscrivetevi. Assolutamente. E spargete la voce. A tutti i vostri amici. E non amici. Anche a chi vi sta sulle balle. Comunque. Non è che. Magari possono stare simpatici a me. Possono stare simpatici a me. Che ne sapete. E. Però non è che poi. Vi trascuro per loro. Siete sempre voi. I re del mio cuore. E. Ci vediamo alla prossima puntata. Tata.